Io non ho nessuna voglia di risiedermi lì, io penso, avendo visto un po' le cose, che anche per quanto riguarda le grandi riforme delle altre cose, uno può essere molto più efficace restando fuori che restando dentro là. Dentro là si perdono tanti di quei giorni interi, di quelle ore, a non fare niente praticamente, che è contrario al mio. Poi io non ho proprio l'ambizione dell'apparire, cioè per me andare a fare la sfida davanti a un drappello, me ne scapperei via, insomma, piuttosto di farlo, poi faccio tutto, ma io ho una natura, la gente non lo pensa, insomma in fondo io sono stato editori per 15 anni nella televisione, sulle mie televisioni credo di esserci andato due o tre volte, quindi io ho l'idiosincrasia, lo faccio perché sono costretto a farlo, ma appena potessi non farlo, è tutto l'ordine che mi finito, ti faccio sì.